Ecco qui vediamo un esempio di nostre macchine. Non voglio andare in più profondo nei dettagli, ma voglio capire lo che Daniele ha detto prima del concepto di Kama. Per sicuramente stiamo facendo macchine di packaging, come vedete, robuste e molto facile da usare. In questo caso voglio capire la vostra attenzione su una macchina di tagliato. Quindi stiamo ricevendo un prodotto in Flowpack che viene da un macchina di AppStream e che bisogna mettere in un cartone pregluato. Cosa significa? Un cartone pregluato è qualcosa come questo, dove abbiamo un cartone che è già gluato, bisogna ottenere, per inserire il prodotto dentro. Come facciamo questo? È il nostro lavoro, ovviamente. Quindi per noi è solo importante sapere il vostro progetto, quale è la vostra necessità, la vostra necessità per il prodotto e quello che vuoi avere come packaging. Questa macchina è una macchina di tagliato. Quindi il prodotto che vi ho mostrato, un bagno o un Flowpack, è venuto e prendiamo il cartone sotto, lo posiamo in una posizione di tagliato, qui, e semplicemente spusiamo il prodotto dentro, con la care maximale dei vostri prodotti. Quindi, una volta che il prodotto è in, lo movemo verso l'estazione di exito, quindi andiamo in quella direzione, e stiamo fermando i flabbi con un melt hot. E, alla fine, hai una box perfettamente scurita, con il vostro prodotto dentro. Ok, ho detto proprio, in principio, che è il concetto della macchina, il principio di lavorazione. Ora, un po' di spiegazione, non la tecnica, ma alcune delle nostre funzioni. Quindi, apriamo le porte. Prima di tutto, sto apriendo le porte, ma la sicurezza viene prima per la CAMA. Quindi, hai le porte interlocutate con la sicurezza di sicurezza, che, assolutamente, hai bisogno di rilasciare dopo stoppire la macchina. Quindi, non c'è una forma che un operatore possa accettare la macchina senza un punto di spiegazione priori. Una volta che le porte sono rilasciate, ok, potete vedere la struttura della macchina, è lontata e ti permette di andare in, e andare in molto vicino, per fare la scuola o operazione di rilascizio. Le operazioni di rilascizio sono molto facilmente sulle nostre macchine. Le possono essere fatte senza strutture, quindi è molto veloce, e quindi mantieni la efficienza della macchina a un livello molto alto. Qui c'è la parte che avevo mentionato, dove abbiamo un prodotto di inserzione del prodotto, che sta imparando il prodotto nel cartone. Le altre strutture della macchina, non so se potete vedere, ma abbiamo strutture di spiegazione, quindi è un frame open, dove puoi vedere i cabli, e sono molto semplici per inserzione. Le cabli dentro, sono scoperto che non puoi vedere, ma non sono attaccati, e potete rilasciare facilmente, in caso di rilascizio o qualcosa di più. È molto importante per voi, è che, come potete vedere qui, le superfici sono inclinate, in order di prevenire la macchina, di rimanere, e, ovviamente, di contaminare la produzione di prodotto. Quindi, queste sono solo un po' di cose, che rendono la macchina di camma molto buona per ogni tipo di prodotto.